Ciao! Eccoci qua. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Un'informazione di servizio e cioè oggi pomeriggio ci troviamo per fare due chiacchiere insieme su quello che è il momento della Juventus qui su YouTube, in live domande risposte, botte risposte, quindi aspetto tutti, vi chiedo come al solito un supporto al canale sotto Natale a voi non costa niente, in realtà non vi costa niente per tutto l'anno, un mi piace, un'iscrizione, un commento invece per me è molto importante perché YouTube sta iniziando a diventare molto molto diverso dal punto di vista degli algoritmi quindi grazie mille a chi vorrà fare questa cosa. Ieri è uscita la puntata di Tutti in the Box, trovate tutta la live ricaricata e troverete dei pezzettini ricaricati anche sul canale YouTube di Tutti in the Box, vi dico questo per un motivo intanto perché ci sarà una novità a breve, adesso non voglio spoilerarvi niente ma è una bella novità e sono molto contento di questa cosa. In seconda battuta perché abbiamo fatto delle analisi su tutte le squadre di Serie A e ovviamente con focus particolare sulla Juventus in questo scontro con l'Inter che ormai è diventato l'argomento principale di questa stagione, dato che finalmente possiamo parlare di campo un solo peccato, grande peccato e cioè che noi quest'anno ci limitiamo al campo italiano infatti ieri quando c'erano i sorteggi delle altre squadre avevo proprio la voglia, la necessità di essere lì anche io, pensare a quale squadra si poteva beccare e non è così ovviamente speriamo di esserci l'anno prossimo e speriamo di farci anche il mondiale per club dato che il Napoli ha estratto il Barcellona e questa è una notizia che va a intersecarsi strettamente con quello che sarà il futuro della Juve perché sappiamo bene che al mondiale per club l'Inter è già qualificata, ce ne sono due per ogni nazione, la Juventus in questo momento è qualificata ma deve stare attenta al Napoli che è l'unica squadra che potrebbe effettivamente poi scavalcarla se il Napoli non passa col Barcellona, molto probabilmente, a quanto pare, sarà la Juventus andare a giocare il mondiale per club, quindi dispiace per gli amici napoletani però bisogna veramente tifare per Lewandowski, Ciavi e compagni perché è l'unico modo poi per andare a giocare una competizione molto molto importante Allora ragazzi, parliamo un po' di calcio mercato perché manca ancora un pochettino a Frosinone Juventus e proprio di Frosinone dobbiamo parlare quest'anno, anzi quest'anno, questa settimana giochiamo di sabato quindi non si gioca più di venerdì, yes e vai, però giocare il sabato a mezzogiorno e mezza è qualcosa di un pochino particolare, devo dire la verità, inusuale, insolito vabbè, ci facciamo un sabato un po' diverso dagli altri, diciamo così facciamo questo tipo di osservazione e dicevo proprio di Frosinone se deve parlare perché già quest'anno a Frosinone sono andati diversi giocatori della Juventus come Caio, come Sule, come Barrenecea e sono giocatori che stanno crescendo, stanno giocando, si stanno divertendo e stanno anche sorprendendo perché comunque il Frosinone sta facendo un'annata bella tosta di Francesco, è entrato nei meccanismi sta facendo quello che ci si aspettava nei migliori dei pensieri cioè portando una salvezza tranquilla che solitamente non c'è a Frosinone quindi molto molto bene a questo punto di vista male dal punto di vista che sono i nostri avversari e quindi speriamo di poter far meglio di loro, è necessario far meglio di loro soprattutto dopo i due punti lasciati indietro a Genova contro un Genova che non è irresistibile ma che ha dato tutto e che ha meritato di fermare la Juventus e proprio Caio si è sbloccato la settimana scorsa primo gol in Serie A su calcio di rigore contro il Lecce e quindi Caio e Sule diventano pericoli pubblici numero uno con Barrenecea che invece è un giocatore un po' diverso un centrocampista, un metodista invece quei due lì davanti fanno paura, spaventano e proprio di Frosinone dobbiamo parlare non solo per la partita ma anche in chiave calciomercato perché c'è una possibilità e cioè che Uisen venga ceduto in prestito al Frosinone fino al termine della stagione ok, parliamone perché secondo me è giusto affrontare l'argomento io vi dico subito che secondo me è giusto così perché Uisen non sta trovando spazio non sta vedendo il campo ha giocato veramente pochissimo mi pare soltanto a San Siro contro il Milan cosa avrà giocato? 10 minuti? 12? quarto d'ora? una roba di questo tipo quando la Juve era in emergenza di uomini c'era poca possibilità di cambiare qualcuno nella retroguardia è entrato lui però è troppo poco per giudicare un calciatore dato che è un calciatore che ha dimostrato di avere qualcosa in più è giusto farlo crescere esattamente come Sule che l'anno scorso non trovava spazio neanche a pagarlo e che quest'anno invece sta rendendo bene come Caio che l'anno scorso non trovava spazio per via di un infortunio che l'ha tenuto anche lontano appunto dalla titolarità a Frosinone nelle primissime giornate o come Barranicea quindi Frosinone sta diventando un po' l'isola felice per quelli che sono i talenti della Juventus il Frosinone ci guadagna perché? perché dal punto di vista sportivo può far giocare dei giocatori che sono forti e lo hanno dimostrato che possono essere valorizzati quindi raggiungere dei risultati come la salvezza che è un obiettivo straordinario per il Frosinone e dall'altra parte la Juve è contenta perché questi giocatori riescono ad attraversare ad affrontare la Serie A e diventare dei giocatori di livello proprio perché alla Juve in questo momento non trovano spazio non stanno trovando spazio e non troveranno spazio perché non credo che le cose potranno cambiare la cosa di cui mi dispiace un pochettino è pensare che questo mercato di gennaio potremmo vedere tanti giocatori giovani della Juventus lasciare la Juve proprio perché in questo momento non si trova spazio nonostante l'assenza delle Coppe anzi più che nonostante per via probabilmente anche se adesso sta per iniziare la Coppa Italia e quindi potrebbe essere il momento in cui ci sarà più necessità di far girare alcuni giocatori secondo me sì però io mi immagino un'accessione di healing no? mi immagino che healing possa partire un altro dei prodotti del settore giovanile della Juve Ildiz penso che rimarrà a Torino nonostante la Juve abbia comunque abbondanza in attacco in quel reparto del campo e poi c'è un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus fino al termine della stagione oppure anche di più e quindi partire a titolo definitivo sempre appartenente al settore giovanile della Juve che è Fabio Miretti è Fabio Miretti ieri parlavamo di di Phillips del Manchester City che sembra un giocatore in contatto con la Juve ora vedremo se la Juve andrà a chiudere effettivamente la trattativa con Guardiola già c'è Nicolussi Caviglia di cui si era parlato un possibile anche ritorno alla Salernitana in prestito fino al termine della stagione Fagioli è squalificato quindi questo progetto Next Gen si produce giocatori che però in questo momento stanno facendo molta fatica a trovare spazio l'unico che un po' aveva trovato spazio era appunto Fagioli che ora è squalificato e un pochettino Miretti ed è proprio lui il giocatore che potrebbe lasciare comunque pure lui la Juventus e addirittura magari incastrandosi in uno scambio di mercato perché? perché la Juventus è interessata ad Andrea Colpani che è un giocatore che si sta mettendo in super evidenza in super mostra e già quota 5 gol giocatore di fantasia giocatore tecnico giocatore che gioca dietro le punte o dietro la punta nel modulo del Monza del 3-4-2-1 quindi quel giocatore che si va a prendere quello spazio largo a destra ed è un giocatore che potrebbe dare anche una soluzione tattica in più alla Juve prima dicevamo c'è abbondanza davanti allora chissà che la Juve non possa togliere un centrocampista per inserire un trequartista o chiedere magari a Colpani di fare quello che aveva in mente potesse fare Samaracic e cioè quel giocatore che parte comunque da mezzala anche se più sacrificato e che in fase di possesso va ad alzarsi e va a mostrare tutte le sue qualità tecniche in rifinitura ecco Colpani potrebbe essere quel tipo di giocatore lì anche se ribadisco per me è un giocatore molto più offensivo rispetto al centrocampo quindi non puoi mascherare il 3-5-2 utilizzando Colpani come centrocampista oppure sì puoi farlo però poi il rendimento di Colpani è destinato a calare dico questo perché perché la Juventus secondo me andrà ad organizzarsi un po' in questo modo ci sono dei giocatori nella Juve che stanno diventando dei casi come Vlaovic di cui abbiamo già parlato vi lascio comunque il video qui sopra nelle schede ma pure Kostic e allora se io devo pensare ai due giocatori che meglio di tutti hanno interpretato la corsia esterna per la Juve mi viene in mente Cambiaso e mi viene in mente McKennie quindi che non sia la volontà della Juventus di andare a fare un 3-5-2 con Cambiaso a sinistra McKennie a destra e poi Locatelli Rabiot e un terzo centrocampista oppure un giocatore più avanzato Miretti sta giocando poco in un momento in cui veramente il campo non lo vede e Miretti è un giocatore che se era partito con un certo approccio e anche con un certo merito perché l'anno scorso Miretti nella prima parte di stagione giocava a titolare e con merito poi si è rotto qualcosa e qui torniamo sempre al discorso secondo me ad attivare Massimiliano Allegri e alla sua volontà alla sua preferenza per giocatori pensanti più pronti con esperienza e anche un po' la fatica che ci mette invece a lavorare con certi giocatori ieri a Tut in the Box parlavamo anche tra le altre cose di questa cosa qui e quindi la difficoltà della Juventus di scalare marcia secondo me passa proprio da questo discorso qua e non credo che sia un caso che dato che ormai il calcio mercato è prossimo all'apertura si stia parlando di Juventus che potrebbe cedere Miretti in una trattativa di mercato per arrivare a un giocatore che importa di più Juventus che sta dando Uisen in prestito perché qui non gioca Juventus che su Ealing sta ragionando per farlo uscire Juventus che Nicolosi Caviglia ha giocato dopo poco quindi ragiona per farlo uscire sembra quasi che la Juventus in questo mercato di gennaio voglia cercare di fare quello che non è riuscita a fare nel mercato estivo e quindi un calcio mercato vero e proprio e andando a prendere dei profili che possono rivelarsi delle occasioni che devono andare a coprire anche dei buchi lasciati dalle squalifiche di Pogba e Fagioli ma non solo magari anche profili che vanno in sostituzione di giocatori che sono in rampa di lancio hanno una nomea hanno una prospettiva hanno del talento ma che la Juve in questo momento per x mila motivi che vanno dallo spazio vanno da quanto è pronto il giocatore vanno da quella che è la considerazione delle latone dei loro confronti alla Juve non trovano posto e quindi li fanno uscire e vanno a cercare dei profili differenti ripeto un po' mi dispiace perché la mia idea era che che la Juventus potesse già da quest'anno cercare di utilizzare quell'arma lì che è l'arma della next gen che se anche se non sta andando bene la next gen nel vero senso la parola dei giocatori interessanti li può comunque tirare fuori mi viene sempre in mente la Fiorentina di qualche anno fa che con Federico Chiesa stava per retrocedere no non è che quindi Federico Chiesa è un giocatore scarso anzi tutt'altro e lo abbiamo visto dipende poi le squadre non sono mai composte trainate trascinate da un singolo giocatore quel giocatore magari ti fa la differenza e poi tutto il resto della squadra non è ancora pronta non è ancora in grado e quindi ci sono dei risultati differenti però questa dovrebbe essere un pochettino l'idea della Juventus nel mercato di gennaio poi io sono sempre di quella cedere Miretti ai titoli definitivi mi dispiacerebbe e non poco non perché sia dell'idea che Miretti possa inventare un giocatore fenomenale mostruoso che proprio non riesce a fermare però sicuramente ha delle caratteristiche delle capacità si vedono sono evidenti poi è ovvio che partire dalla Juventus ed essere titolare della Juventus me ne ricordo pochi di giocatori che hanno fatto questa cosa e quei pochi che mi vengono in mente uno è Del Piero e direi che stiamo parlando di livello molto molto alto sugli altri è difficile è difficile soprattutto senza aver fatto magari una stagione intera come ha fatto Fagioli in serie B con la Cremonese in cui ha giocato in cui ha dimostrato in cui è cresciuto in cui è maturato quindi vedremo se la Juventus farà davvero qualcosa di questo tipo se la Juventus ha in mente un cambio di modulo quindi alzare magari un centrocampista sulla linea di tre quarti vediamo se la Juventus farà dei movimenti concreti a gennaio e vedremo se ci sono altri giocatori della Juventus destinati a partire in prestito in prospettiva futura anche perché Wizen sembra quasi fatto adesso non ce lo troveremo contro sabato però sicuramente poi nella seconda parte di stagione molto anzi sicuramente molto probabilmente da quelle che sono le ultime informazioni le ultime notizie dovrebbe giocare proprio insieme a Caio Sule e Barnecea fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti ciao e noi ci vediamo oggi pomeriggio con la solita live del martedì ciao belli